bella raga bentornati il vostro mister lollo qui sul football manager club ovviamente con la beta ancora di football manager 2020 sta per uscire ci siamo quasi la prossima settimana il gioco ufficiale ovvero il 19 novembre dove inizieremo ve lo dico subito premessa incredibile molto importante quindi ascoltatemi attentamente andatevi a scrivere su twitch perché inizieremo una bellissima carriera del real journeyman fatto quindi un journeyman reale con una squadra scelta da voi potremo partire disoccupati se volete e poi scegliamo la squadra la sceglierete voi ovviamente con una serie di opzioni che faremo insieme decideremo insieme quindi mi raccomando andatevi a scrivere su twitch è molto molto importante questa cosa la ripeto sempre lo dite anche in live e seguite anche le live quando potete insomma qui su youtube e su twitch mi raccomando oggi ragazzi gare importantissime difficilissime contro catania scusate contro ternana e catanzaro ternana il catania purtroppo ragazzi mi è rimasto qua in testa abbiamo perso quindi mi è rimasto qua ternana ragazzi vedete la quinta in classifica con 22 punti però molto molto temibile lì a terni e poi il catanzaro invece che sta con noi lei secondi in classifica a 26 punti quindi uno scontro diretto per avvicinarci il più possibile al catania e poi ci vedremo pure la trasferta a vibo valenza contro la vibonese a metà classifica insomma partite molto complicate spero di ottenere i più i più punti possibili ragazzi spero proprio che riusciamo in qualche modo a far vincere questo bari a riportarlo prima in classifica perché io ci credo è una scuola molto forte secondo me magari a gennaio potremmo anche fare qualcosa poi voi come sempre mi consiglierete anche qualcosina da fare ora però scendiamo a terni per ternana bari daje la mia mitica anteprima di ternana bari magliette ve lo ricordo standard cats nuove del 2020 eccole qua le maglie di ternana e bari appunto siamo leggermente favoriti anche se in trasferta secondo betson altalenante nella nostra condizione ma arriviamo dalle ultime tre abbiamo fatto due vittorie e un pareggio l'avete visto in coppa tele l'ultima bella vittoria col picerno e loro ok arrivano da due sconfitte consecutive vorranno sicuramente rifarsi delle sconfitte nessun incontro precedente ovviamente il loro allenatore è il fabio gallo punto di forza il cross la scuola degli ottimi crossatori e le palle e punti deboli sono le palle alte quindi si nutre qualche preoccupazione per le palle alte ai portieri quindi facciamo qualche cross in più inizio alle 17 30 libero liberati di terni 10.800 bietti minuti su una capacità di 17.640 insomma non male terni giochi in ottime condizioni 14 gradi sereno daniele de santis e l'arbitro ancora non ha diretto nessuna gara formazione faccio vedere ragazzi non cambio molto perché questa è una partita molto importante ma anche la prossima per cui dovevo scegliere ma voglio continuare con la squadra che ha fatto bene col picerno quindi ho lasciato solo ma ora un attimo in panchina per farlo riposare comunque frattale in porta e berra cumbulla per rotta costa in difesa viviani ancora regista retrato davanti alla difesa con foloruncio il mio foloroscio e scavone a centrocampo il tofu montiel a destra a sinistra leandrinho davanti a antinucci e non esposito anche se si è sbloccato esposito sta al 92% lo facciamo giocare la prossima quindi facciamo un po di turnover davanti speriamo bene ora vediamoci la formazione della ternana ternana come vedete con un 4 3 1 2 con tozzo in porta parodi sini sua guerra celli in difesa palumbo damian salsano i tre centrocampisti centrali con gaetano trequartista dietro a ferrante e marilungo marilungo molto interessante molto forte secondo me spogliatoio parola squadra energico vediamo un po questa è un'ottima opportunità per mostrare a tutti gli esperti che avevano ragione a sostenervi motivati la mia difesa comunque diamo ancora un po più di fomento alla difesa penso possiede dare molto di più credo nella vostra capacità di dimostrarlo niente centrocampo stessa cosa e sono motivati e felici molto bene bene felice anche antinucci si deve sbloccare deve segnare oggi ci credo forza bari andiamo a terni e giochiamoci la forza salsano per darmian gaetano dall'altra parte per parodi attenti palumbo ancora lia ce lo siamo persi parodi parodi dietro per damiana tocco per gaetano il destro alto di poco sini per damiana va a chiudere sini andiamo a pressare su tutti ebbene qui liandrigno recupera un bel pallone lancia subito per antinucci bellissimo contropiede ma mirco 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 pallonetto sbagliato tante nuci palumbo andiamo a pressare sua ger lancio dentro marilungo va via marilungo va via che occasione gran parate frattali fermi tutti i ragazzi liandrigno è subito una botta potenziale fortuna della coscia non mi piace entra al suo posto giovanni terrani subito faccio questa sostituzione va a costa a battere il fallo laterale dentro lunghissimo per per rotta anticipato scavone tocco per viviani ci prova viviani tocco per antenucci va mirco il destro fuori di pochissimo ma non controllate palumbo per marilungo guardate che occasione marilungo incontropiede fuori 43 minuti fallo laterale ternana vaccelli la gioca per sua guerra lancio di sua guerra ancora marilungo va via la difesa veramente forte marilungo il destro e grande frattali fa il miracolo e devia in angolo finisce qua il primo tempo ragazzi è un'ottima ternana bisogna dirlo un bari così così guardate tiri infatti 11 a 9 per loro se è 2 per loro nello specchio della porta però il possesso parla maggiore nostro 62 per cento dobbiamo crederci ancora spogliato io parla la squadra energico non mi è affatto piaciuta la vostra partita sono carichi bene così infatti vedo un 650 di montielle il tofu sta giocando male 660 al centrocampo male folo rosso e scavone male 650 pure per rotta munito insomma bisogna fare qualcosa in più ragazzi per forza dai e bari sostituzioni allora esce folo rosso folo rosso guardate mezzale 74 per cento entra al suo posto direi raffaele bianco al posto di folo rosso che non mi è piaciuto mettiamolo come centrocampista centrale automatico va benissimo e pure il tofu montielle ragazzi esce male entra al suo posto cupiz vediamo se facciamo altre sostituzioni beh vedo per rotta malissimo munito difensore centrale entra sabione al posto di per rotta poi l'ultima ce la teniamo magari toniavantenucci e mettiamo un'altra punta ma speriamo bene dai berra in mezzo per scavone scavone allarga per costa bella azione costa costa tocco per terrani terrani dall'altra parte berra berra ma lui dentro il pallone colpo di testa alto di scavone 78 minuti ultima sostituzione esce antenucci entra esposito siamo al novantesimo ormai quasi finita ragazzi 0 a 0 ci sono state tante occasioni ma ha giocato molto bene anche la ternana bisogna dirlo c'è lì in mezzo marilungo attenzione marilungo e grande frattali oggi grande i parate su marilungo finisce la gara ragazzi finisce la gara eccola qua 0 a 0 purtroppo altri due punti persi forse non lo so però a terni era molto complicato non siamo riusciti a segnare comunque i tiri 17 a 14 per noi bene il secondo tempo 7 a 4 per loro però nello specchio della porta possesso palla 60 per cento diciamo ci sta sto pareggio bisogna ammetterlo vediamo un po i voti benissimo loro e manuele sua guerra migliora in campo in assoluto della partita il loro difensore noi bene frattali e l'abbiamo visto e berra sulla destra gli altri così così sinceramente così così male per rotta non mi sono piaciuti molto sono stanchi ogni tre giorni giochiamo sono un pochino stanchi dai forza crediamoci ora c'è la partita veramente importante difficilissima contro il catanzaro potremmo perdere qualche punto in classifica poi vedremo come staremo alla fine delle tre gare forza dai eh amici cari anteprima di pari catanzaro ci siamo partita fondamentale che cosa è successo andiamo subito sulla classifica purtroppo hanno vinto sia catania che catanzaro catanzaro a 29 come vedete e lo dobbiamo giocarci oggi e catania a 32 se vinciamo col catanzaro però sorpassiamo almeno e arriviamo secondi dobbiamo anche sperare per forza che il catania perda qualche partita perché non è possibile che continuano a vincere tutte guardate il catania 10 vittorie e 2 pareggi anche benissimo il catanzaro 9 vittorie 2 pareggi una sola sconfitta noi una sconfitta 8 vittorie e 3 pareggi insomma stiamo andando bene ma questo questo catania è incredibile dicono alta allenanza delle condizioni recente eccellente la loro ovviamente arrivano da 5 vittorie consecutive nessuno precedente tra le due squadre il loro allenatore e gaetano auteri complimenti a lui punto di forza il dribbling potenziale punti deboli rigori inizio ore 20 e 45 sanicola di bari 12.100 biglietti venduti su una capacità di 58.000 ancora pochi però ormai sono questi i tifosi qui in serie c tenendo il gioco in ottime condizioni 20 gradi sereno ermes fabrizio cavaliere e l'arbitro non ancora diretto gare quest'anno formazione importantissima ragazzi 4 tra 3 al solito ho fatto un pochino di turnover alcuni non mi sono piaciuti nella scorsa partita quindi ho scelto questa vi faccio vedere frattale in porta mora torna a destra kumbulla per rotta zambataro a sinistra costa lo facciamo riposare anche se lui è sempre fortissimo però facciamo riposare bianco torna regista davanti alla difesa per far riposare viviani schiavone scavone a centro campo mettiamo come mezzala schiavone speriamo bene e attaccante esterno tofo montiela anche se stanco rimane lui a sinistra purtroppo terrani perché si è fortunato leandrigno sta fuori ancora per una settimanella circa e davanti esposito al posto del nostro nuncio mirco antenucci speriamo bene forza bari in casa contro il catanzaro tentiamo di fare una bella vittoria dai è una formazione giallorossa catanzaro amici che si schiera con adamonis in porta celiento figliomeni 43 di difesa bandini derisio risolo elisalde diciamo la linea mediana canute tre quartista a destra fishnaller a sinistra bianchi mano davanti insomma sembra abbastanza interessante sa squadra ma non così forte da non poterla battere comunque per la squadra energico siamo davvero sfavoriti per cui non ci sono pressioni su due andate in campo e dimostrate quanto valete niente non si fomentano energico penso possiedere molto di più credo nella vostra capacità di dimostrarlo bene adesso qualcuno è felice bene anche il centro campo attacco stessa cosa bene ok ascolta attentamente finiamo il discorso alla squadra do io le istruzioni all'avversario entriamo in campo bari dobbiamo tenere tre punti per superare il catanzaro forza siamo ancora all'inizio ce la possiamo fare dagli e bari kumbulla partiamo noi dalla difesa con mora va mora lancia dentro verso montiel non è fuori gioco va il tofu il tofu il tofu e sbaglia il gol del vantaggio davanti alla porta al secondo minuto punizione per il catanzaro celiento tocco per derisio va derisio dall'altra parte bene per elisalde attenzione prova dietro per risolo ancora elisalde attenti non lo fate grossare risolo tocco per derisio ancora risolo attenzione elisalde andate addosso colpo di dietro ancora per zambataro in mezzo sul secondo palo invece arriva bianco trova bianco ancora dentro per scavone il sinistro palo incredibile finisce primo tempo non stiamo giocando male possiamo giocare meglio 0 a 0 col catanzaro 6 a 4 di lì per noi 1 a 1 nello specchio della porta però loro maggior possesso palla 60 per cento forza bari crediamoci spogliatoio para la squadra energico fatemi pensare cosa dire ragazzi non c'è niente da perdere oggi andate in campo e date il meglio niente ascoltate attentamente ma non gli piace quello che io gli ho detto fino adesso energico potete dare molto di più credo che sia dell'altezza di farlo ok adesso sono felici stessa cosa al centro campo stessa cosa davanti ora andiamo anche a vedere come stanno giocando male davanti se è 30 montielle se è 40 terrani se è 60 esposito se è 40 pure scavone ragazzi qui ci sarà da fare qualche stravolgimento lì davanti non va bene la linea difensiva sta tenendo forza sostituzioni ragazzi loro hanno messo addirittura un 4 4 3 3 una cosa del genere insomma hanno messo tre punte lì davanti abbastanza tosti davanti tutti male ragazzi quattro sostituzioni secche scavone esce entra il nostro follow ruscio follow ruscio al posto di scavone e ovviamente lui lo mettiamo come mezzala a supporto anzi lui a supporto e questo offensivo poi esce montielle e terrani guardate terrani come ha giocato entra cupiz al posto del tofu montielle ed entra dursi al posto di terrani come attaccante esterno offensivo al posto di esposito rientra antenucci subito quattro sostituzioni tostissime penultima ce la teniamo daje zambataro dall'altra parte per cupiz va via sulla destra cupiz può crossare in mezzo cupiz dietro invece per mora non crossa per schiavone il tiro 62 minuti andrea schiavone da fuori prima rete stagione assist di mora dai e bari stavamo subendo nel primo tempo un pochino insomma poi adesso con le sostituzioni molto bene cupiz dietro per mora la passa perfettamente per schiavone un destro imprendibile per il portiere loro 1 a 0 settantesimo cumbulla lancia per dursi ma questo ragazzo stoppa la palla va dursi ancora dietro per zambataro prova il cross in mezzo colpo di testa di foro ruscio ad amonis lancio lungo di ad amonis c'è nicastro va via sulla sinistra nicastro va via proverà il cross dietro attenzione derisio nicastro in mezzo colpo di testa che se lento zambataro il tiro ribattuto ancora il tiro alto madonna che batti ribatti elisalde lancio lungo per nicastro qui sbaglia la difesa nicastro fuori 40 lancio per elisalde attenzione tocco per mora ho messo difensiva mora sbaglia tutto chi ha regalato il pallone e bianchi mano pareggia raga bianchi mano pareggia li mettiamo equilibrata bianchi mano pareggia 1 a 1 gli abbiamo regalato il pallone guardate 40 lancio lungo elisalde di testa mora alla meglio la dà addosso un giocatore poi arriva bianchi mano e gol ultima sostituzione ha sbagliato purtroppo cristiano anche se ha giocato molto bene esce raffaele bianco ed entra viviani al suo posto lancio lungo meglio il catanzaro però meglio il catanzaro lì delisio lancio dentro ancora per bianchi mano che occasione che ha il tiro che gol ha fatto sotto l'incrocio 2 a 1 catanzaro ragazzi assurda mettiamo positiva non offensiva altrimenti subiamo un altro gol incredibile c'è ribaltato il risultato delisio mamma mia non aspettavo perché sta giocando bene il catanzaro pallone per bianchi mano guardate che destro imprendibile sotto l'incrocio va lui dall'altra parte per cupice ma c'è schiavone alla meglio schiavone la gioca poi verrà zambataro di testa sbagliano sbagliano tutto c'è lento lancio dentro per bianchi mano bianchi mano ancora oggi veramente mattatore dudu il tiro fuori 89 minuti crediamoci ancora mora in mezzo per cupice cupice alla fine calcio di rigore calcio di rigore all'89 per noi giusto atterrato chi va a battere state calmi 90esimo minuto state calmi è decisivo storico reante lucci vannuccio vannuccio e segna si risblocca luccio al novantesimo terza rete stagione sì sì mettiamo equilibrata 2 a 2 va bene perché catanzaro ha giocato molto bene ma anche noi ci siamo stati fino alla fine luccio che pareggia bene così taglie lancio dentro per cupice attenzione adesso cupice ha tenuto un bel calcio di rigore cupice ancora per mora ci prova mora la gioca dentro per rante lucci sbagliano però attento per rante lucci ruba palla e luccio luccio il tiro mamma mia che ha sbagliato davanti alla porta era il 3 a 2 ragazzi al novantaduesimo incredibile calcio d'angolo intanto dall'altra parte ancora rante lucci palo 95esimo ragazzi e finisce qua la partita mamma mia che gara 2 a 2 però secondo me molto giusto ha giocato bene anche il catanzaro era in buona forma l'abbiamo fermato bene il bari al novantesimo il gol di antenucci che su rigore per fortuna veramente guardate i tiri 20 a 13 per loro se essere nello specchio della porta 50 per cento possesso palla purtroppo il pareggio anche stavolta ci sta come contro la ternana anche stavolta è giusto il pareggio schiavone benissimo con il gol l'8.3 bene antenucci 6 e 9 hanno giocato bene quelli che sono subentrati bene in difesa mora 7 e 9 con l'assist molto bene poi ha fatto anche una cavolata mora comunque loro benissimo bianchimano il migliore in campione assoluto con la doppietta insomma abbiamo giocato abbastanza bene male chi tofo montiel terrani esposito guardate anche scavone molto male 6 4 6 3 l'ho dovuto sostituire in fretta e poi tutto sommato abbiamo recuperato una partita molto difficile ora testa la prossima che dobbiamo vincere a tutti i costi dai e forza bari amici cari l'ultima delle tre partite ci vediamo oggi vibonese bari siamo costretti a vincere guardate la classifica incredibile catania 35 punti dopo 13 cari ovviamente catanzaro 30 noi 28 insieme alla cavese poi 27 il teramo ternana 26 queste sei squadre si giocano secondo me qualcosa di importante quelle che si giocheranno anche i playoff alla fine molto molto importante infatti questa partita perché dobbiamo per forza ciuffare almeno il catanzaro e avvicinarci al catania che non perde più queste siciliani sono tremende come ha commentato anche qualcuno di voi veramente comunque sia siamo nettamente favoriti contro la vibonese in trasferta come vedete 1.57 ok la condizione recente arriviamo purtroppo da due pareggi con due squadre forti come ternana e catanzaro l'avete visto soprattutto col catanzaro l'ultima all'ultimo secondo abbiamo pareggiato con antenucci che si è fatto male per un mese infatti ve lo faccio vedere dopo non ci sono ovviamente incontri precedenti tra le due squadre il loro allenatore è nevi orlandi punto di forza senza palla collettivamente questi giocatori sono molto bravi nel movimento senza palla potenziali punti deboli di cross quindi sono lacunosi nel crossare inizio alle 20.45 Luigi Razza di Vibo Valencia 1650 biglietti venduti su una capacità di 4.500 ci sono tutto sommato visto la capienza dello stadio campo ok non è in perfette condizioni 19 gradi sereno l'arbitro è Antonino Costanza non ha diretto nessuna gara quest'anno formazione eccola qua il mio 4-3-3 ragazzi ho fatto un po' di turnover sì perché poi ci sono dopo 4 giorni un'altra gara molto importante si susseguono le gare qui in serie c per cui bisogna stare molto attenti tanto Leandrigno ha recuperato solo oggi ma sta al 76% rimane ancora in tribuna era leggermente infortunato Marfella ha recuperato vabbè il secondo portiere antenucci come vi dicevo sta fuori per un mesetto 3-4 settimane sarà molto tosta quindi è sposito in campo dal primo minuto con 4-3-3 equilibrato frattali in porta Berra, Cumbulla, Perrotta, Costa in difesa, Viviani regista davanti alla difesa con Folo Roscio il mio amico Roscio con Scavone a centrocampo, Kupitz alla destra perché Montiel non mi è piaciuto nell'ultima gara quindi ancora il polacco Kupitz che invece non mi è dispiaciuto per niente Terranea a sinistra visto che Leandrigno ancora non è in formissima e davanti Seba Esposito il 17enne ragazzo prodigio secondo me di questa squadra ora formazione Vibonese Vibonese con un 4-4-1-1 come vedete con Greco in porta Picone, Malberti, Redolfi, Tito in difesa Berardi, Pugliese, Prezioso e Mausso a centrocampo Taurino, trequartiste tra Bubas, unica punta insomma si può sicuramente fare qualcosa di importante però la squadra è energico voglio che ignoraste le recenti logiche da stampa e giocaste come sapete ascoltando attentamente non si fomentano è energico credo in voi andate fuori e fate vedere il vostro valore niente che c'avete ragazzi? stessa cosa al centrocampo qualcuno si è motivato come Scavone e Terrani in attacco speriamo che si motiva ed è felice Sebastiano Esposito molto bene dai dobbiamo giocarcela al massimo perché qui i tre punti devono essere obbligatori dai avanti a Vibonese va la Vibonese ragazzi ventesimo minuto vanno loro non è successo nulla Tito dall'altra parte per Malberti andiamo subito a pressarlo però lancio dall'altra parte Berardi va Berardi sulla destra ci prova per Pugliesi attenti ragazzi tocco per Prezioso Foloroscio va a spressare molto bene Malberti ancora pressing alto bene il pallone dall'altra parte arriva Berra subito per Sebastiano Esposito va via Esposito con la velocità va via ragazzi il tiro alto sopra la traversa che occasione punizione Foloroscio in mezzo verso il centro Kumbulla Kumbulla fuorigioco no regà fuorigioco di Kumbulla assurdo annullato rivediamolo secondo me non è fuorigioco comunque rivediamolo e invece sì c'è il fuorigioco scattato troppo prima rispetto ai difensori finisce il primo tempo insomma Vibonese e Bari 0-0 4-1 i tiri per noi 2-1 nello specchio della porta 58% possesso stiamo giocando ma non come voi io ho messo positivo ovviamente la mentalità nel frattempo durante la gara però energico sono ben lungi dall'essere felice per quanto ho visto oggi ok sono carichi non dico altro va bene così vediamo come stanno giocando 650 Kupits eh non mi sta piacendo Kupits mi sta deludando gli altri 660 Foloroscio e anche per rotta però vabbè comunque 650 l'unico è Kupits così così avanti secondo tempo non meglio loro Redolfi lancio dentro per Emmausso Emmausso va da solo va da solo il tiro incredibile gol della Vibonese ragazzi crisi non è possibile questo gol della Vibonese mettiamo offensiva assurdo gol della Vibonese guardate la linea difensiva come si è fatta a beffare qui guardate veramente sbagliato i centrali hanno sbagliato tutto va via Emmausso tutti che lo inseguono e lui facile facile mette dentro con un destro raso terra ho messo offensiva tanto Costa fallo laterale di testa va ancora il pallone per Costa tocco per Scavone Scavone in mezzo Kupits Kupits e c'è il pareggio del Bari al sessantesimo non è fuori gioco stavolta 1 a 1 bello il cross di Scavone Kupits il polacco che lo voleva sostituire invece si è fatto trovare pronto guardate il pallone arriva a Costa per Scavone bello il cross sul secondo palo Kupits va a segnare l'1 a 1 sostituzioni allora esce Perrotta male 660 ammunito entra sabbione al suo posto al posto di Marco Perrotta è già uno poi ragazzi direi esposito ed entra Franco Ferrari perché non c'è il nostro Antonucci Antenucci scusate e quindi entra Franco Ferrari come fulcro del gioco offensivo proviamo così poi forse Terrani ragazzi anche Terrani non mi sta piacendo pure se sei 80 no entra al suo posto non Montiel ma è Eugenio Durzi proviamo Eugenio Durzi al posto di Terrani punizione per noi va Scavone da fuori Scavone Greco fa il miracolo sotto l'incrocio che occasione pari incredibile Scavone ancora calcio d'angolo Costa per Ferrari pallone per Durzi la botta alta 76 minuti facciamo le ultime due sostituzioni ragazzi esce Folo Roscio che non mi sta piacendo come mezzale entra Teofilus Ava per cui non gioca molto Ava al posto di Folo Roscio e lo metto come centrocampista centrale offensivo va bene così e poi chi facciamo uscire Costa pure ragazzi 670 non bene sulla sinistra entra Zambataro al suo posto siamo al novantesimo non è successo ancora nulla 92 93 niente ragazzi un altro pareggio perdiamo altri punti in casa della Vibonese incredibile 1-1 contro la Vibonese assurdo Bari cosa sta succedendo piccolo momento di crisi 3 partite 3 pareggi ragazzi 3 partite 3 pareggi abbiamo perso tantissimi punti così per strada questi sono i momenti di crisi di Football Manager e della squadra purtroppo 14 a 2 tiri 5 a 2 nello specchio della porta loro in quei due tiri in porta uno l'hanno messo dentro vabbè queste sono pure le cose che insomma succedono su Football Manager e Mausso Michele Mausso mi era in campo con quel gol molto bello Redolfi molto bene con l'assist per loro noi bene Berra nient'altro Scavone con l'assist gol di Cupiz ma niente di che ragazzi niente di che sono sincero tutti sul 6-8 6-7 6-9 però non una gran gara non va bene ora che ci tocca fare rimbocchiamoci le maniche andiamo a vedere i prossimi appuntamenti e la classifica speriamo bene Homepage Bari ragazzi beh la classifica piange in questo momento anche se continuiamo a essere imbattuti in campionato insomma imbattuti abbiamo fatto solo una sconfitta ma purtroppo ben 5 pareggi e 8 vittorie così non va bene abbiamo pareggiato troppo soprattutto nelle ultime 3 gare l'avete vista due squadre forti ma la Bibonese dovevamo vincere a tutti i costi non ce l'abbiamo fatta ci mancava un po' di personalità non lo so qualche giocatore importante non sta facendo quello che deve secondo me comunque sia Bari con 14 gare l'unico che insieme alla Bibonese ovviamente eravamo l'anticipo di sabato 29 punti adesso devono ancora giocare Catanzaro e Catania e addirittura la Cavese e il Teramo che potrebbero superarci mamma mia ragazzi infatti sarà veramente tosta adesso bisogna rimanere un pochino in controllo della situazione rimanere lì nella zona playoff e non farci prendere dal panico perché mancano ancora tante giornate ovviamente sono 38 gare dobbiamo fare nel campionato di Serie C come vedete i prossimi appuntamenti importanti allora subito il secondo turno di Coppa Italia Serie C contro il Virtus Francavilla poi in campionato ci vedremo in casa con l'Avellino e la trasferta a Reggio Calabria contro la Regina molto molto difficile anche se la Regina non sta passando un bel momento che è a tredicesimo l'Avellino uguale diciassettesimo insomma dobbiamo ottenere sei punti in quelle due partite e più la vittoria del secondo turno almeno lo spero di riprenderci al meglio comunque sia per questo Bari per questa carriera mi raccomando like e condivisioni ci vuole sempre ve lo chiedo sempre e poi di iscrivervi a Twitch perché è molto importante per fare delle live insieme per scegliere una nuova carriera ci vediamo la prossima sempre con il vostro Mr. Lollo con Football Manager Club con Football Manager 2020 e tutti gli altri giochi ovvero PS e FIFA andatele a vedere mi raccomando un abbraccio alla prossima ciao ciao ciao